e poter andare a fare i mondiali del 2014 in Brasile che ne vale la pena che ne vale la pena, spalma il contratto, tanto la società lo cederà comunque a gennaio e se non lo vuole fare, non vuole firmare, la società può dire Moratti, visto che lo paga, ha tutto il diritto di tenerlo di tenere a sedere e di farlo sul diritto io ho dei dubbi, perché viene chiamato mobbing momento, Stramazzoni ha detto non parliamo di mobbing, è una scelta tecnica è palese che non è una scelta tecnica però nel momento in cui tu il giocatore lo fai allenare assieme agli altri giocatori, lo fai cambiare nello stesso spogliatoio voglio dire, l'allenatore, che poi non è così, ma l'allenatore ha la perfetta possibilità di scegliere di lasciarlo in panchina, di metterlo in tribuna è quello che ha fatto City con Tevez l'anno scorso che guarda caso, poi è tornato alla ragione, è tornato all'ovile quest'anno gioca, è perfettamente contento L'anno scorso Tevez era perché non ne voleva sapere perché c'erano dei problemi caratteriali per tanti altri motivi e quindi, no, qui si vuole abbassare un contratto di un giocatore spalmandogli il contratto in un modo esagerato quali sono le proposte di Moratti? il sacrificio di Snyder è quello che gli viene allora fino alla fine dell'anno Snyder viene pagato alla stessa cifra patuito, 6 milioni di euro netti a stagione dopodiché il contratto che scadrebbe il 2015 l'Inter gli ha proposto 5 milioni di euro a stagione quindi la rinuncia praticamente a me non hanno parlato di questo no, no, praticamente Snyder verrebbe a prendere in 4 anni guadagnerebbe 21 milioni di euro affiché 19 che è il gol del Cluj intanto Cluj in vantaggio a Manchester contro lo United quindi praticamente Snyder spalmerebbe il contratto però gli verrebbe allungato andrebbe a prendere 2 milioni di euro in più rispetto a quelli che avrebbe preso nei 3 anni solo che affiché guadagnare in 3 anni li prenderebbe in 4 questo è il discorso il discorso della spalmatura io ho capito condizioni peggiori no, no, no gli è stato proposto da 6 milioni gli è stato proposto di scendere a 5 più bonus facilmente raggiungibili bonus intende presenze si intende gol in nazionale sei sicuro di questo? perché io ho sentito che lo stipendio gli veniva dimmiato tanto Juventus in vantaggio a Donets con Giovinco Giovinco mi sembra che forse per la prima volta nella sua carriera da Juventino si è dato un gol che forse qualcosa conta c'è da dire peraltro che vuol dire anche il pareggio avrebbe fatto passare la Juventus quindi credo che la cosa non cambia non cambia molto cambia però perché la Juventus con questo successo passerebbe come prima del girone vorrei sapere la temperatura che c'è fanno proprio veramente i fumi dal freddo non credo sarà molto diversa da quella che avremo a Bologna nei prossimi giorni esatto era in fuorigioco ma fa niente voglio dire e poi pallone in mezzo e Giovinco che anticipa e mette dentro esatto quindi 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 vi dicevi scusa di è un autogol è un autogol perché la palla ha riparlato sul difensore dello Shakhtar quindi insomma io invece avevo sentito parlare di 3 milioni di euro dopo quest'anno assolutamente la proposta è stata di 5 quindi il giocatore ha perfettamente diritto il contratto vuol dire anche perché non è più un ragazzino cioè allungare il contratto secondo me poteva anche convenire certo ma non lo vuole fare voglio dire il diritto della società è lasciarlo in panchina voglio dire poi possiamo dire tante cose possiamo dire che il giocatore non è sereno si può inventare mille cose ma il mobbing non c'è perché ripeto non viene fatto allenare a parte il giocatore viene le partite le partite di allenamento gioca assieme alla squadra si cambia con la squadra è un giocatore che non è mai stato particolarmente amato dalla squadra perché Snyder ha un modo di fare che non è particolarmente diciamo uno di quelli che fa gruppo come per esempio possono essere gli argentini che peraltro vedrebbero di buon occhio lo scambio con Pastore questo non è un mistero questo non è un mistero perciò credo che il caso sia facilmente risolibile dal momento che lui il giocatore non vuole spalmare che quindi Moratti lo stipendo glielo deve pagare comunque ok a te da interista piace di più Snyder o Pastore? preferirei 100 volte Snyder però c'è un discorso di adeguamenti di ingaggi di tetto di ingaggi che non si deve sforare io di fronte a questo se l'alternativa è quello che la squadra della società salti per aria che anche Snyder venga dato via da interista ma voglio dire non tanto da interista ma quanto da in un'ottica di buona amministrazione della società di calcio io ho detto la stessa cosa da milanista quando è andato via Tiago Silvei sei milioni di euro poi soprattutto per quello che ti sta dando Snyder non li sta valendo quel contratto fu fatto alla fine del 2010 dopo il triplete quando Snyder alla fine di quella stagione fece veramente una stagione da numero uno da pallone d'oro vinse tutto quello che c'era da vincere in Italia ed in Europa arrivò in finale di Coppa del Mondo perdendola ai cinque minuti dalla fine dei supplementari fece una stagione da super e in quel momento sei milioni di euro era un contratto che effettivamente era consono era consono a ciò che aveva dato perché ti faccio la domanda opposta mettiamo che Snyder si fosse fatto male durante questo contratto tu pensi che lui avrebbe detto con la società no, non datemi questi soldi perché sono infortunato quindi non sto giocando è un discorso generale voglio dire i giocatori vogliono il rispetto del loro contratto quando la cosa gli conviene che ci sia ma non appena c'è qualcuno che gli va a offrire di più i giocatori sono i primi a chiedere che il contratto non venga rispettato o a chiedere di rescindere il contratto no, no in effetti anche i giocatori sono un po' ti ricordi ma anche nella pallacanestro ci sono stati dei famosi giocatori che avevano sempre ogni anno che volevano riaggiornare il contratto avevano un male al gomito un male al ginocchio ma finché non veniva devo dire che anche Sabatini quando poi non desiderava confermare dei giocatori con un ingaggio importante ad esempio Righetti se non sbaglio aveva un contratto da 300 mila euro lui lo tenne in tribuna fondamentalmente nel suo diritto per carità lo continuava a pagare alla fine puoi fare quello che vuoi voglio dire sai qual è la verità c'è anche da dire che al di là delle colpe tra virgolette dei giocatori o delle società è cambiato talmente rapidamente il mondo in assoluto è quello dello sport mi sento di dire in particolare che è un giocatore un Righetti due anni fa gli davi 300 mila euro oggi a Righetti ne dai 80 lascia vedere che ha tre anni in più ed è un 77 quindi ha 35 anni però anche a Righetti di allora a parità di età avrei preso quell'ingaggio un quarto sei d'accordo un quarto? si voglio dire se Poeta piglia 150 a Righetti ne dai 60 tu guarda la situazione di un Mancinelli Mancinelli è fermo è fermo anche per colpe sue chiariamoci o del suo procuratore non so chi perché comunque quando Armani gli propose un rinnovo del contratto a cifre leggermente inferiore ai 650 che percepiva e lui me lo rifiuta allora mi dico se stai a piedi te lo sai anche cercato e quei soldi forse non li prendi mai più ma chi te li dà voglio dire non te li dà nessuno ma neanche in Europa qualcuno te li dà e poi diamo in pubblicità ma ha fatto un segno pubblicità perché ho sentito un sibilo allora io non ho sentito perché ho i cameraman bui nascosti nei meandri pubblicità voi non avete visto che c'era pubblicità vero? sì guarda guarda lei non reagisce lei non reagisce lei è sul gioco più non vuole pensieri a tra poco eccoci di nuovo in studio ci ha abbandonato per un momento Celeste l'ha espodestata praticamente Francesca pur di poter giocare no no si vede che adesso sei lì su Bloodsucker su gioco più sei letteralmente incontenibile allora pronti per un altro giro ovviamente con la nostra roulette le ragazze le vedo in fermente durante la pubblicità si scatenano allora Luigi vai con un altro numero il numero è 32 già stato 32 già stato giocato da te 32 23 13 33 33 vai perfetto Max 9 9 come urla il semenzara quando vince Schman de Fer ma tu non puoi sapere di cosa stiamo parlando io 19 voi calcolatrice alla mano forza tu 21 allora abbiamo tutte tutte decidono il 21 ah 5 donne che si mettono d'accordo eh hanno voluto ma è meraviglioso per non far scegliere a te ha ragione è bellissimo ha ragione perché se no la pia sceglie tu oppure la colpevole celeste che basta che vada via una volta immediatamente si mettono d'accordo subito non so se hai notato il particolare 21 vai ci siamo tu non hai ancora fatto la croupier vai vediamo come te la cavi brava ottimo lavoro hai un futuro 17 quanto? 17 nero cosa fai nervo non si ferma così la roulette ma dove gioca? che al bar della pipa ma non ho capito mai questo è un sacrilegio vabbè 17 nero è il classico cavallino 17 e 20 che però non esce siamo ragazzi al bagno di sangue non ne indoviniamo uno e dico neanche uno allora Max parlavamo un po' di basket dicevamo Mancinelli un'azione molto opinabile cioè quella sai che mi siedo un po' al posto del tanto così gioco anch'io facciamo anche due colpetti qui anch'io poi ho l'animo infantile e mi lascio prendere da eccolo qua bello 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 io impazzisco io sono un compulsivo queste cose mi piacciono da matti Max dicevamo allora Mancinelli mosso opinabile un'azione opinabile si vede che nella sua ottica l'ha ritenuta ragionevole un'azione sicuramente però fuori dai tempi che stanno correndo ecco e infatti la conseguenza stiamo vedendo Mancinelli è fermo però non so Luigi se sei d'accordo con me la mossa era discutibile ok lui pigliava sui 6,50 6,50 non su ne prendeva 6,50 e gli offrono un rinnovo a 5,50 5,100 no scusa rinnovo a 500 in una società che ti fa un bonifico non il 15 del mese te lo fa anche prima certo perché Armani ti garantisco che se c'è una società che paga non in tempo ma addirittura prima è l'EA7 di Milano allora io dico questo Luigi parliamo di una mossa opinabile da parte di Mancinelli però prima la potevamo ritenere opinabile oggi la riteniamo folle ma a distanza di 4 mesi è qua che mi sto dicendo è la folle che 4 mesi fa sono d'accordo ma non così tanto come la vediamo oggi perché la crisi ha cambiato il mondo ma io mi sento di dire veramente la stiamo sentendo addosso in questo quadrimestre in maniera spaventosa cioè l'anno scorso se io andavo in giro di notte andavo in discoteca andavo per locale c'era un altro movimento se entriamo in politica diventa un disastro a parte che non è più politica perché stiamo parlando di un tecnico quindi non è neanche politica esatto il problema è che si respira tu sai che io non è che l'ho votato eh Monti tu sai che io non è che l'hanno votato gli italiani nessuno l'ha votato nessuno l'ha votato nessuno l'ha votato e però io ti dico oggi in America si respira lascia entrare Celeste vieni qua perché tu sei entrata nel trip ti gioco più vieni pure allora guardate come si presenta lei è non solo sta giocando si è anche presa un panino nel delirio devi aprire le bare fermi che c'è la nervo con le bare si gioco più va bene e allora torniamo alla magia gioco più vai no torna a giocare torna torna a giocare io me ne vado dai devi giocare se ci sono le bare da aprire facciamo un cambio metti una caramella no no va bene prendo una golia solo perché sei tu vai ad aprire le bare come siamo messi pipistrelli pipistrelli niente finito se te non sei neanche per le bare eh e io te lo dico cioè sono non solo comunque dai tornando al discorso è incredibile come in America e nel resto di Europa si respira sempre più ottimismo e invece in Italia ogni mese c'è un un disastro una cattiva notizia tra l'altro lo spread è calato sotto i 300 no? sì però vabbè adesso però questa cosa in Grecia voglio dire non è che penso arrivi una buona notizia ogni giorno cioè è di oggi la notizia che Panathinaikos squadra di calcio ha chiesto di giocare le sue partite alle 12 e mezza durante il giorno perché non hanno più soldi da pagare l'illuminazione dello stadio olimpico di Atene quindi c'è adesso vuol dire che non è che siamo una squadra di serie A sì esatto ha chiesto ha chiesto cortesemente di poter anticipare la sua partita di campionato alle 12 e 30 questo è incredibile sì per non dover pagare l'illuminazione no no ma con questo hai detto tutto c'è tu che tu che bazzichi spesso gli states mi dici è un'altra musica oggi si respira guarda mentre due anni fa all'inizio della crisi c'era veramente una crisi nera per tutti i futures per tutte queste situazioni in cui c'era un'economia gonfiata oggi invece c'è molto molto più entusiasmo ma si è lavorato nell'abbassare le tasse non nell'aumentarle qui invece stiamo disintegrando cioè la politica di Obama rispetto a quella di Romney secondo te è una politica vincente lui ha detto che i ricchi lui compreso dovranno essere tassati un po' di più però parliamo oltre i 250 mila dollari esatto quindi è più che legittimo cioè l'Imu cioè è andata a colpire tutti coloro noi siamo un popolo di risparmiatori anche persone che con un mutuo sudando e avendo solo quella casa si sono costruiti un'abitazione per il futuro loro e quindi sono andati a colpire tutti indistintamente non solo quelli che avevano oltre le 40 appartamenti esatto ma anche oltre ma anche oltre i 5 ma forse ora anche 2 cioè se tu mi dici tu hai la tua casa di proprietà poi hai preso un'altra casa che ti sei comprato te la tasso con il giusto equilibrio io fortunatamente secondo me non è giusto neanche bastonare chi ha preso una casa e ne sta prendendo un'altra ti sto dicendo io fortunatamente ho qualche cioè un immobile o tre immobili voglio dire perché si potevano comprare con la famiglia tanti anni fa chiaramente a cifre più abbordabili rispetto parliamo veramente non so una casetta al mare di 50 metri mi ricordo che me la pagarono credo 7 milioni di lire c'è roba che oggi farebbe ridere però posso anche capire che quelle me le tassi ma quello che ha una casa cosa lo vai a spolpare però devo anche dire che io non non posso ritenermi faccio un esempio io vivo in casa con mia madre e ho affittato un appartamento io pago come seconda casa quella che è la mia prima casa capisci? ma tornando al discorso Obama Obama però ha aumentato l'assistenza sanitaria ha migliorato l'assistenza sanitaria che peggiorare l'assistenza sanitaria negli States vuol dire fucilarli sul posto quando alla febbre perché lo sai perché l'ha beh quello bisognerebbe aprire un discorso lunghissimo ma anche perché comunque la prima assistenza il pronto soccorso c'è funziona fantasticamente tipo Iare insomma come nei film fantasticamente però l'assistenza sanitaria però la paghi il pronto soccorso lo paghi? no non paghi lo paghi se sei una persona che può se sei una persona che può bene se no tu comunque hai diritto di essere assistito poi invece per i trapianti per queste cose abbia visto anche lì dei famosi film John Cook quello di Dezel Washington esatto lì è un'altra cosa lì devi avere i soldi certo ma qua poi ti mettono in lista d'attesa per anni che fa in tempo e chi ha i soldi comunque se li va a fare hai ragione ragazzi torniamo al volo sullo sport con questa digressione che abbiamo fatto però è sensata vai un'ultima ora perché tu sai che la qualifica di Portanova scade l'8 dicembre sì hanno ridotto? no non hanno ridotto il Bologna ha fatto istanza contro la federazione italiana gioco calcio per danni per richiesta danni no solo per accogliere la domanda volta a stabilire che il termine di scadenza della sanzione scada l'8 dicembre praticamente ha fatto un'istanza contro la FIGC per chiedere che venga confermata che venga non riesca a capire che cosa abbiano fatto ti ricordi che loro avevano detto che nel caso di Portanova si è detto quattro mesi che scadevano praticamente il martedì nel caso di Conte è stata una data precisa per farlo in nove esatto esatto vogliono che sia potenzialmente in grado di giocare con la Lassia per la differenza rispetto a quella di Conte no no ma in parte la cosa era abbastanza evidente allora intanto abbiamo sempre qualche aggiornamento dalla Champions poi Maxi darai qualche dettaglio in fase di chiusura della trasmissione abbiamo ancora una decina di minuti forse non arriveremo in fondo per vedere i finali comunque abbiamo già sette prime su otto le abbiamo già sicure che sono il Paese Saint Germain lo Schalke il Malaga il Borussia Dortmund che sono passati ieri dal giro di oggi sono venute fuori Barcellona Manchester United e Bayern stiamo aspettando appunto l'ultima prima uscirà appunto dallo sconto di Donetsk tra la Juventus e lo Shakhtar perfetto perché nel caso in cui lo Shakhtar riuscisse a pareggiare diventerebbe prima nel girone in caso contrario sarà la Juventus a prendere il girone questo naturalmente è molto importante perché chi arriva prima può prendere le seconde degli altri gironi quindi potenzialmente avversari più facili per il secondo turno impressioni Virtus e impressioni bianco-blu mi sento di dire e soprattutto la Kerel in casa bianco-blu partiamo da te Max intanto con la Virtus allora innanzitutto parliamo di un campionato che è veramente di livello scarso credo che siano almeno 30 anni che un campionato io credo che non si sia mai visto un campionato di così basso livello in Serie A specchio fedele non è la sua capolista Varese è una squadra che io credo che solo 5-6 anni fa avrebbe fatto fatica ad arrivare a centro classifica e che oggi si ritrova prima avendo perso una sola partita in un contesto di questo genere la Virtus sta bene dove sta come potrebbe stare bene anche 2-3 gradini più avanti credo che il quintetto messo in piede da Sabatini possa tranquillamente competere a questo punto dico anche Milano compresa con tutte se la può giocare con tutte poi c'è una panchina che è di livello più basso o quantomeno una panchina molto più giovane che quindi è soggetta a molti più alti e bassi gli americani della Salle 3 stanno dando ma stanno dando con una grande alternanza di rendimento questo può avere tante spiegazioni che possono essere più o meno spiegabili in pubblico Minard mi ha detto che vengono pagati regolarmente l'ho intervistato poi non so se mi ha detto la verità o meno se lo dice lui dobbiamo dargli retta mettiamola così fino a prova contraria gli americani vengono pagati regolarmente perciò la loro alternanza di rendimento va ricercata in altre sedi sta di fatto che appunto che gli americani della Virtus vadano a corrente alternata è un dato di fatto trovino continuità credo che non abbiano nulla di meno degli americani che giocano anche nelle altre squadre Milano non sta trovando Scariolo e non mi meraviglio non sta trovando il bandolo della Matassa per fare giocare la sua squadra in maniera decente quindi a questo punto credo che una Virtus che ora è quinta sesta possa anche aspirare a un posto tra le prime quattro in un quadro di voglio dire di debolezza di tristezza di questo genere certo Luigi Bianco Blu tu hai sempre sposato il progetto di Romagnoli io sono sempre stato d'accordo con te ritengo non sia stata una bella mossa non tanto non prendere Eagles perché erano incomprabili con quei debiti lì comprarli sarebbe stata una follia io l'ho detto in tutte le salse però bisognava avere l'onestà di dire sono incomprabili e Romagnoli non l'ha detto a parte che lo sapevano tutti e Romagnoli sicuramente non ha mai fatto ha sempre evitato di fare il passo più lungo della gamba perché già con la Bianco Blu ha rischiato ha rischiato grosso quindi rischiare perché Sacrati ha continuato a fare il galletto seguito dalla Fossa veramente io vorrei comunque avere un collegamento una volta con un rappresentante della Fossa perché sono sempre più ingiustificabili per quello che è successo e che noi diciamo da anni che sono